Era d'accordo con lui anche quando aveva torto. Dopo la morte di Pierpaolo Pasolini, Leonardo Sciascia aveva detto di sentirsi solo e disarmato. Stimava il suo coraggio. Erano due intellettuali fraterni e lontani, espressione di una voce dissidente e solitaria, la coscienza del paese. A ribadirlo, gli studiosi, critici e personaggi del mondo dello spettacolo che hanno partecipato al convegno promosso dal Centro Studi Pasolini in occasione dei 30 anni dalla morte dello scrittore di Racalmuto che con il poeta friulano condivise l'impegno civile e l'avversione al potere e alle sue retoriche. Pasolini e Sciascia, ultimi eretici, il titolo del convegno. Entrambi cercano di dire la verità, per quanto sia un concetto problematico quello della verità, soprattutto in letteratura dove la verità è sempre ambigua e tutto sommato inappropriabile. Però almeno parliamo di tensione verso la verità. Entrambi hanno voluto dire la verità contro il potere. Sono un esempio di esercizio critico del pensiero. Spero che lo siano per tutti. Tra i protagonisti del convegno Roberto Andò, regista e sceneggiatore, amico di Sciascia, che nell'intellettuale siciliano aveva trovato anche un maestro che ha pagato per la sua imprudenza, per il suo spirito critico. Sciascia non ha mai voluto tradire il senso ambiguo, profondo della letteratura e quindi non ha mai voluto fare sconti al suo essere scrittore. E in questo ha pagato un prezzo.